Noi siamo il gruppo Bosch. Apparteniamo a una fondazione di pubblica utilità, ma soprattutto apparteniamo alle vite di tutti voi, in cui siamo entrati con un'auto, un elettrodomestico, una moto, un telefono dopo l'altro. Abbiamo sempre sviluppato una tecnologia pensata per migliorare la vostra vita e quella del pianeta. Quello che sogniamo è un mondo in cui potremo accendere tutte le luci col vento e muoverci l'uno verso l'altro usando la luce del sole. Un mondo che consuma meno perché consuma meglio, in cui le case sono intelligenti e in cui le uniche emissioni sono quelle di idee che cambiano il mondo. Un universo che progredisce partendo dalla sua storia, sapendo che ogni evoluzione è la somma di piccoli passi, compiuti con fatica, capacità e ostinazione. Crediamo che gli utili siano veramente utili quando sono reinvestiti nella ricerca e nelle nostre vite, perché sappiamo che la sicurezza e l'efficienza non sono un lusso, ma soprattutto una questione di attenzione. Ci impegniamo ogni giorno per rendere concreta l'idea di un mondo sostenibile, perché il nostro futuro dipende dalla qualità dell'ambiente in cui viviamo, dalla capacità di sostenere i giovani talenti e le iniziative di pubblica utilità. Nel nostro mondo l'intelligenza e la forza collaborano per produrre energia pulita o per portare una scintiva laddove ancora non c'è. Quel mondo esiste e ha già la sua storia, cresce ogni giorno e ci accompagna passo dopo passo verso il futuro. BOSCH. Tecnologia per la vita.